Il corso Management Sportivo mi ha aiutato ad ampliare i miei orizzonti. Ho avuto la possibilità di approfondire conoscenze e competenze che non sapevo di avere. Ho conosciuto i miei compagni di corso che mi hanno permesso di condividere insieme a loro e sviluppare nuove conoscenze e nuove competenze. Penso che sia utile, dopo la mia carriera sportiva, immergermi in questo nuovo percorso manageriale. Il corso mi ha dato questa possibilità.